Rimaniamo ancora nelle scuole per parlare però di sicurezza, c'è ancora molto da fare ma spicca in positivo a Catania l'Istituto Rapisardi. Sentiamo Filippo Romeo. A scuole in sicurezza Catania inizia ad adeguarsi agli standard europei. I primi interventi di ammodernamento strutturale finanziati con fondi comunitari in alcuni edifici sono stati già eseguiti. Il circolo didattico Mario Rapisardi di Viale Vittorio Veneto è tra quelli ad aver già beneficiato di un progetto per incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche e l'ecosostenibilità. Qui sono stati già sostituiti tutti gli infissi con moderne finestre a taglio termico per ridurre la dispersione di calore ed è stato installato il nuovo impianto antincendio in tutto l'Istituto. Appositi bocchettoni a disposizione dei vigili del fuoco per eventuali emergenze sono stati collocati anche nel cortile. Inoltre è realizzato anche un ampio locale autoclave attivo a due grandi serbatoi per l'acqua. I lavori durati quattro mesi sono costati poco più di 176 mila euro. Risorse queste del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Piano Operativo Nazionale 2007-2013. Abbiamo raggiunto degli obiettivi molto interessanti perché questa scuola è dotata adesso di un sistema di antincendio e quindi per quanto riguarda la sicurezza è veramente al top una delle poche scuole qui a Catania nel territorio che è dotata di tutto ciò che riguarda appunto la sicurezza. Non ultimo per esempio anche nell'ottica del risparmio energetico anche gli infissi che sono stati interamente restaurati con il taglio termico. E quindi una scuola anche che con ambienti molto belli anche molto valorizzati danno il massimo del comfort. Per esempio pensiamo anche a queste aule con i tetti alti e quindi questi soffitti alti che permettono anche una reazione dell'aula a norma e con tutti i canoni. Una scuola all'avanguardia non solo per questi interventi ma anche per la didattica e le attività extra che gli allunni svolgono regolarmente, progetti sportivi, laboratori artistici e musicali e iniziative ricreative. E' anche una scuola la nostra che da quest'anno ha un'offerta formativa triennale molto interessante perché la progettualità si sta appunto sta inaugurando proprio il concetto del laboratorio territoriale. E' una scuola che in sinergia col territorio darà vita a un'offerta formativa molto stimolante perché si utilizzeranno dispositivi pedagogici come l'arte, la musica anche per ampliare tutte le competenze disciplinari. E' una scuola che è anche dotata di uno sportello psicopedagogico, di consulenza per le famiglie e che progetta per il territorio anche cultura.